Anche il calcio a 5 ha tagliato i nastri di partenza del campionato provinciale CSI. Sono circa 8.000 i tesserati con 527 squadre in gara divise in 5 gruppi. A Barzana si è disputata la prima partita del gruppo A. Oggi è stata una bella partita, potevamo raccogliere di più, ma comunque un buon 2-1, una buona vittoria. Buone azioni, ci conosciamo ancora poco, ma possiamo raggiungere degli ottimi obiettivi. Vedremo, è la prima, vedremo più avanti come va. La squadra c'è stata anche l'anno scorso, abbiamo mantenuto il gruppo A. Non abbiamo vinto il campionato, quest'anno speriamo di raggiungere obiettivi migliori. Purtroppo la prima l'abbiamo persa, credo, immeritatamente. Quest'anno, facendo paragone, noi siamo come il sassuolo. Puntiamo per salvarci, vediamo di tirare su questi ragazzi. Ho voluto puntare su una squadra di giovani, mantenendo il gruppo A. Anche quest'anno resta buona l'adesione al calcetto femminile con 12 squadre, mentre per il secondo anno di fila si conferma il campionato di calcetto over 30 che fa scendere in campo 14 squadre.